Ciao a tutti, oggi prepareremo i carciofi in agrodolce. Il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti circa. Ingredienti sono cuori di carciofo tagliate a spicchi, olio evo, aceto bianco, latte, farina, sale, zucchero, uva sultanina ammollata e pinoli. Andiamo via alla ricetta. Per prima cosa mettiamo la farina all'interno del latte e l'amalgamiamo con il cucchiaino facendo attenzione a non lasciare grumi. Adesso mettiamo all'interno del boccale l'olio, i cuori di carciofo e un pizzico di sale. Facciamo amalgamare per 5 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Aggiungiamo l'aceto, ed azioniamo il bimbi per 3 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Adesso aggiungiamo il composto di latte e farina, lo zucchero, l'uvetta che abbiamo precedentemente ammollato e i pinoli. e facciamo cuocere per 6 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft, senza misurino. I carciofi sono pronti, andiamo a impiattare. Carciofi in agrodolce. Grazie e alla prossima ricetta! Carciofi in agrodolce. Grazie a tutti!